Heftling. Ho imparato che io sono un Heftling. Il mio nome è 174517. Siamo stati battezzati. Porteremo finché vivremo il marchio tatuato sul braccio sinistro. L'operazione è stata lievemente dolorosa e straordinariamente rapida. Ci hanno messi tutti in fila, ad uno ad uno, secondo l'ordine alfabetico dei nostri nomi. Siamo passati davanti a un abile funzionario, munito di una specie di punto e ruolo dal lago cortissimo. Pare che questa sia l'iniziazione vera e propria. Solo mostrando il numero si riceve il pane e la zuppa. Sono corsi vari giorni e non pochi schiaffi e pugni perché ci abituassimo a mostrare il numero prontamente, in modo da non intralciare le quotidiane operazioni a nonare di distribuzione. Ci sono voluti settimane e mesi perché ne apprendessimo il suono in lingua tedesca. E per molti giorni, quando l'abitudine dei giorni liberi mi spinge a cercare l'ora sull'orologio a polso, mi appare invece eronicamente il mio nuovo nome, il numero tra punto insegna a Zurrognoli sotto l'epidermide. Sono molto più tardi e a poco a poco. Alcuni di noi hanno poi imparato qualcosa della funeria scienza dei numeri di Auschwitz, in cui si compendono le tappe della distruzione dell'ebraismo d'Europa. Ai vecchi del campo il numero dice tutto. L'epoca di ingresso al campo, il convoglio di cui si faceva parte e di conseguenza la nazionalità. Ognuno tratterà con rispetto i numeri dal 30.000 all'80.000. Non sono più che qualche centinaio e contrassegnano i pochi superstiti dei ghetti polacchi. Conviene aprire bene gli occhi quando si entra in relazioni commerciali con un 116.000 o un 117.000. Sono ridotti ormai una quarantina, ma si tratta dei greci di Salonicco, non bisogna lasciarsi mettere nel sacco. Quanto ai numeri grossi, essi comportano una nota di essenziale comicità, come avviene per i termini matricola o coscritto nella vita normale. Il grosso numero tipico è un individuo panciuto, docile e scemo, a cui può far credere che all'infermeria distribuiscono scarpe di cuoio per individui dai piedi delicati e convincerlo a corrervi e a lasciarti la sua gamella di zuppa in custodie. Gli puoi vendere un cucchiaio per tre razioni di pane. Lo puoi mandare dal più feroce dei capò a chiedergli il successo a me. Se è vero che il suo è il cartoffel shawl commando, il commando per la tua patate, e se è possibile esservi arruolati. D'altronde, l'intero processo di inserimento in quest'ordine per noi nuovo avviene in chiave grottesca e sarcastica. Finita l'operazione di tatuaggio, ci hanno chiusi in una baracca dove non c'è nessuno. Le cuccette sono rifatte, ma ci hanno severamente proibito di toccarle e di sedervi sopra. Così ci aggiriamo senza scopo per metà della giornata nel breve spazio disponibile, ancora tormentati dalla sete furiosa del viaggio. Poi la porta si è aperta ed è entrato un ragazzo dal vestito in righe, dall'area abbastanza civile, piccolo, magro e biondo. Questo parla francese e gli siamo addosso in molti, tempestandolo di tutte le domande che finora ci siamo rivolti l'un l'altro inutilmente. Ma non parla volentieri, nessuno qui parla volentieri. Siamo nuovi, non abbiamo niente e non sappiamo niente. A che scopo perdere tempo con noi? Ci spiega di malavoglia che tutti gli altri sono fuori a lavorare e torneranno a sera. Lui è uscito stamane dall'infermeria, però oggi è esente dal lavoro. Io gli ho chiesto, con un'ingenuità che solo pochi giorni dopo già doveva parermi favolosa, se ci avrebbero restituito almeno gli spazzolini da denti. Lui non ha riso, ma col viso atteggiato a intenso disprezzo mi ha gettato «Vo ne te pas la maison». Ed è questo il ritornello che da tutti ci sentiamo ripetere «Non siete più a casa». Questo non è un sanatorio, di cui non si esce che per il camino. Cosa vorrà dire? Lo impareremo bene più tardi. E infatti, spinto dalla sete ho adocchiato fuori da una finestra un bel ghiacciolo a portata di mano. Ho aperto la finestra, ho staccato il ghiacciolo, ma subito si è fatto avanti un grande grosso che si aggirava là fuori e me lo ha strappato brutalmente. «Varum», gli ho chiesto nel mio povero tedesco. «Hir ist kein Varum», «qui non c'è perché», mi ha risposto, ricacciandomi dentro con uno spintone. La spiegazione è ripugnante ma semplice. In questo luogo è proibito tutto, non già per riposte ragioni, ma perché a tale scopo il campo è stato creato. Se vorremmo viverci, bisognerà capirlo presto e bene. Qui non ha luogo il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel serchio. Ora dopo ora, questa prima lunghissima giornata di antinferno volge al termine. Mentre il sole tramonta in un vortice di truci nubi sanguigne, ci fanno finalmente uscire dalla baracca. Ci daranno da bere? No. Ci mettono ancora una volta in fila, ci conducono in un vasto piazzale che occupa il centro del campo e ci dispongono meticolosamente inquadrati. Poi non accade più nulla per un'altra ora. Sembra che si aspetti qualcuno. Una fanfare incomincia a suonare accanto alla porta del campo. Suona Rosamunda, la biannotta canzonetta sentimentale. E questo ci appare talmente strano che ci guardiamo null'altro, sogghignando. Nasce in noi un'ombra di sollievo. Forse queste cerimonie non costituiscono che una colossale buffonata di gusto teutonico. Ma la fanfara, finita Rosamunda, continua a suonare altre marce, una dopo l'altra. Ed ecco apparire i drappelli dei nostri compagni, che ritornano dal lavoro. Camminano in colonna per cinque. Camminano con un'andatura strana, innaturale, dura, come fantocci e rigidi fatti solo di osse. Ma camminano seguendo scrupolosamente il tempo della fanfara. Anche loro si dispongono come noi, secondo un ordine minuzioso, nella vasta piazza. Quando l'ultimo drappello è rientrato, ci contano e ci ricontano per più di un'ora. Avvengono lunghi controlli, che sembrano tutti fare capo a un tale vestito a righe, il quale rende conto un gruppetto di SS in pieno assetto di guerra. Finalmente, è ormai buio, ma il campo è fortemente illuminato da fanali riflettori, si sente gridare «Habsperre!», al che tutte le squadre si disfano in un viavai confuso e turbolento. Adesso non camminano più rigidi e impittiti come prima. Ciascuno si trascina con sforzo evidente. Noto che tutti portano in mano, appesa alla cintura, una scodella di lamiera grande quasi come un catino. Anche noi, nuovi arrivati, ci aggiriamo tra la folla, alla ricerca di una voce, di un viso amico, di una guida. Contro la parete di legno di una baracca stanno seduti a terra due ragazzi, sembrano giovanissimi, sui sedici anni al massimo. Tutti e due hanno il viso e le mani sporche di fuligine. Uno dei due, mentre passiamo, mi chiama e mi pone in tedesco alcune domande che non capisco. Poi mi chiede da dove veniamo. «Italien», rispondo. Vorrei domandargli molte cose, ma il mio frasario tedesco è limitatissimo. «Sei ebreo?» gli chiedo. «Sì, ebreo-polacco. Da quanto sei in lager?» «Tre anni». Eleva tre dita. «Deve essere entrato bambino», penso con orrore. D'altronde, questo significa che almeno qualcuno qui può vivere. «Qual è il tuo lavoro?» «Schlosser», risponde. «Non capisco. Eisen, Feuer, ferro, fuoco», insiste lui, e facendo con le mani come di chi batta sul martello su di un incudine. È un fabbero, dunque. «Ich chemiker», dichiaro io. E lui accenna gravemente col capo. «Chemiker gut». Ma tutto questo riguarda il futuro lontano. Ciò che mi tormenta in questo momento è la sete. Bere acqua. Noi niente acqua, gli dico. Lui mi guarda con un viso serio, quasi severo, e scandisce «Non bere acqua, compagno». E poi altre parole che non capisco. «Warum?» «Gech wollen», risponde lui telegraficamente. «Io crollo il capo, non ho capito». «Gonfio», mi fa capire, infiando le gote e abbozzando con le mani una mostruosa tumescenza del viso e del ventre. «Warten bis heute Abend». «Aspettare fino oggi sera». Traduco io parola per parola. Poi mi dice «Ich schlome, du?» Gli dico il mio nome e lui mi chiede «Dove è tua madre?» «In Italia». «Schlome si stupisce. Ebrei in Italia?» «Sì», spiego io del mio meglio. Nascosta, nessuno conosce. Scappare, non parlare, nessuno vedere. Ha capito, ora si alza, mi si avvicina e mi abbraccia timidamente. L'avventura è finita e mi sento pieno di una tristezza serena, che è quasi gioia. Non ho più rivisto Schlome, ma non ho dimenticato il suo volto, grave mite di fanciullo, che mi ha accolto sulla soglia della casa dei morti. Moltissime cose ci restano da imparare, ma molte le abbiamo già imparate. Già abbiamo una certa idea della topografia del lager. Questo nostro lager è un quadrato di circa 600 metri di lato, circondato da due reticolate di filo spinato, il più interno dei quali è percorso da corrente ad alta tensione. È costituito da 60 baracche in legno, che qui si chiamano blocks, due cui una decina in costruzione. A queste vanno aggiunti il corpo delle cucine, che è in muratura, una fattoria sperimentale, gestita da un distaccamento di Heftlinge, privilegiati. Le baracche delle docce e delle latrine, il numero di una per ogni gruppo di 6 ed 8 blocks. Di più, alcuni blocks sono adibiti a scopi particolari. Innanzitutto un gruppo di 8, all'estremità est del campo, costituisce l'infermeria e l'ambulatorio. Ve poi il block 24, che è il crezze block, riservato agli scabbiosi. Il block 7, in cui nessun comune Heftlinge è mai entrato, riservato alla prominenza, cioè all'aristocrazia, agli internati che ricoprono le cariche supreme. Il block 47, riservato ai Reichsdeutsche, gli ariani tedeschi, politici o criminali. Il block 49, per soli capò. Il block 12, una metà del quale, ad uso dei Reichsdeutsche e capò, funge da cantine, cioè da distributori di tabacco, polvere insetticida e occasionalmente altri articoli. Il block 37, che contiene la fureria centrale e l'ufficio del lavoro. E infine, il block 29, che ha le finestre sempre chiuse, perché è il Frauenblock, il postribolo del campo, servito da ragazze Heftlinge polacche e riservato ai Reichsdeutsche. I comuni blocks di abitazione sono divisi in due locali. In uno, Tagsraum, vive il capo Baracca con i suoi amici. Ve un lungo tavolo, sedie e panche, ovunque quantità di strani oggetti, da colori vivaci, fotografie, ritagli di riviste, disegni, fiori finti, soprammobili. Sulle pareti grandi scritte, proverbi e poesioli inneggianti all'ordine, alla disciplina, all'igiene. In un angolo, una vitrina con gli attrezzi del block freezer, barbiere autorizzato. I mestoli per distribuire la zuppa e due nerbi di gomma, quello pieno e quello vuoto, per mantenere la disciplina medesima. L'altro locale è il dormitorio. Non vi sono che 148 cuccette a tre piani, disposte fittamente, come celle di alveare, in modo da utilizzare senza residui tutta la cubatura del vano, fino al tetto, e divise da tre corridoi. Qui vivono i comuni Heftling, il numero di 200 o 250 per baracca. Due quindi, in buona parte, delle cuccette, le quali sono di tavole di legno mobili, provviste di un sottile sacco a paglia e due coperte ciascuna. I corridoi, di disimpegno, sono così stretti che a stento ci si passa in due. La superficie totale di pavimento è così poca che gli abitanti di uno stesso bloc non vi possono soggiornare tutti contemporaneamente, se almeno la metà non sono coricati nelle cuccette, di cui il divieto di entrare in un bloc a cui non si appartiene. In mezzo al lager è la piazza dell'Appello, vastissima, dove ci si raduna al mattino per costituire le squadre di lavoro e alla sera per venire contati. Di fronte alla piazza dell'Appello c'è una aiuola dall'erba accuratamente rasa, dove si montano le forche quando occorre. Abbiamo ben presto imparato che gli ospiti del lager sono distinti in tre categorie, i criminali, i politici e gli ebrei. Tutti sono vestiti in righe, sono tutti heftlinghe, ma i criminali portano accanto al numero cuscito sulla giacca un triangolo verde, i politici un triangolo rosso, gli ebrei che costituiscono la gran maggioranza portano la stella ebraica, rossa e gialla. Le SS ci sono sì, ma poche, e fuori dal campo, e si vedono relativamente di rado. I nostri padroni effettivi sono i triangoli verdi, i quali hanno mano libera su di noi, e inoltre quelli fra le due altre categorie che si prestano ad assecondarli, i quali non sono pochi. Ed altro ancora abbiamo imparato, più o meno rapidamente, a seconda del carattere di ciascuno, a rispondere gli avoli, a non fare mai domande, a fingere sempre di avere capito. Abbiamo preso il valore degli alimenti, ora anche noi raschiamo diligentemente il fondo della gamella dopo il rancio, e la teniamo sotto il mento quando mangiamo il pane, per non disperdere le briciole. Anche noi adesso sappiamo che non è la stessa cosa ricevere il mestolo di zuppa prelevato dalla superficie o dal fondo del mastello, e siamo già in grado di calcolare, in base alla capacità dei vari mastelli, quale sia il posto più conveniente a cui aspirare quando ci si mette in coda. Abbiamo imparato che tutto serve, il fil di ferro per legarsi le scarpe, gli stracci per ricavarne pezzi da piedi, la carta per imbottirsi abusivamente la giacca contro il freddo. Abbiamo imparato che d'altronde tutto può venire rubato, anzi viene automaticamente rubato non appena l'attenzione si rilassa, e per evitarlo abbiamo dovuto apprendere l'arte di dormire col capo su un fagotto fatto con la giacca, e contenente tutto il nostro avere, dalla gamella alle scarpe. Conosciamo già in buona parte il regolamento del campo, che è favolosamente complicato, innumerevoli sono le proibizioni, avvicinarsi a meno di due metri dal filo spinato, dormire con la giacca o senza mutande, o col cappello in testa, servisse di particolare lavatoie, latrine, che sono nur für capo, o nur für recht deutsche. Non andare alla doccia, nei giorni prescritti, e andarvi nei giorni non prescritti, uscire di baracca con la giacca sbottonata, o col bavaro rialzato, portare sotto gli abiti carto o paglia contro il freddo, lavarsi altrimenti che a torso nudo. Infiniti e insensati sono i riti da compersi. Ogni giorno al mattino bisogna fare il letto, perfettamente piano e liscio, spalmarsi gli zoccoli fangosi e repellenti, con l'apposito grasso da macchina, raschiare via dagli abiti le macchie di fango, le macchie di vernice di grasso e di ruggine sono invece ammesse. Alla sera bisogna sottoporsi al controllo dei pidocchi e al controllo della lavatura dei piedi. Al sabato farsi radere la barba e i capelli, rammendarsi o farsi rammendare gli stracci. Alla domenica sottoporsi al controllo generale della scabbia e al controllo dei bottoni della giacca, che devono essere cinque. Di più ci sono innumerevoli circostanze, normalmente rilevanti, che qui diventano problemi. Quando le unghie si allungano bisogna accorciarle, il che non si può fare altrimenti che coi denti. Per le unghie dei piedi basta l'attrito delle scarpe. Se si perde un bottone bisogna saperselo riattaccare con un filo di ferro. Se si va alla latrina o al lavatoio bisogna portarsi dietro tutto, sempre e dovunque, e mentre ci si lavano gli occhi tenere il fagotto degli abiti, stretto fra le ginocchia. In qualunque altro modo esso in quell'attimo verrebbe rubato. Se una scarpa fa male bisogna presentarsi alla sera alla cerimonia del cambio delle scarpe. Qui si mette alla prova la perizia dell'individuo. In mezzo alla calca incredibile bisogna saper scegliere con un colpo d'occhio una, non un paio, una, scarpa che si adatti, perché fatta la scelta un secondo cambio non è concesso. Né si creda che le scarpe nella vita del lager costituiscono un fattore di importanza secondaria. La morte incomincia dalle scarpe. Esse si sono rivelate per la maggior parte di noi veri arnesi di tortura, che dopo poche ore di marcia davano luogo a piaghe dolorose che fatalmente si infettavano. Chi ne è colpito è costretto a camminare come se avesse una palla al piede. Ecco il perché della strana andatura dell'esercito di Larve che ogni sera rientra in parata. Arriva ultimo dappertutto, e dappertutto riceve botte. Non può scappare se lo inseguono, i suoi piedi si gonfiano, e più si gonfiano più l'attrito con il legno e la tela delle scarpe diventa insopportabile. Allora non resta che l'ospedale, ma entrare in ospedale con la diagnosi di di che fiusse, piedi gonfi, è estremamente pericoloso, perché è ben noto a tutti, e dall'SS in specie, che di questo male, qui, non si può guarire. E in tutto questo non abbiamo ancora accennato al lavoro, il quale a sua volta ha un groviglio di leggi, di tabù e di problemi. Tutti lavoriamo, tranne i malati, farsi riconoscere come malato comporta di per sé un imponente bagaglio di cognizioni e di esperienze. Tutte le mattine usciamo inquadrati dal campo alla buna, tutte le sere inquadrate rientriamo. Per quanto concerne il lavoro, siamo suddivisi in circa 200 commandos, ognuno dei quali conta da 15 a 150 uomini ed è comandato da un capò. Vi sono commandos buoni e cattivi, per la maggior parte sono adibiti ai trasporti e il lavoro vi è assai duro, specialmente d'inverno, se non altro perché si svolge sempre all'aperto. Vi sono anche commandos di specialisti, elettricisti, fabbri, muratori, saldatori, meccanici, cementisti, eccetera. Ciascuno ha detto di una certa officina o reparto della buna e dipendenti in modo più diretto da maester civili, per lo più tedeschi o polacchi. Questo avviene naturalmente solo nelle ore di lavoro. Nel resto della giornata gli specialisti, non sono più di 3 o 400 in tutto, non hanno trattamento diverso dai lavoratori comuni. All'assegnazione dei singoli ai vari commandos sovrintende uno speciale ufficio del lager, l'Arbeitsdienst, che è in continuo contatto con la direzione civile della buna. L'Arbeitsdienst decide in base a criteri sconosciuti, spesso palesemente in base a protezioni e corruzioni, in modo che se qualcuno riesce a procurarsi da mangiare è anche praticamente sicuro di ottenere un buon posto in buna. L'orario di lavoro è variabile con la stagione. Tutte le ore di luce sono ore lavorative, perciò si va da un orario minimo invernale, ore 8-12 e 12-30-16, o massimo estivo, ore 6-30-12 e 13-18. Per nessuna ragione gli Eftlinge possono trovarsi al lavoro nelle ore di oscurità o quando c'è nebbia fitta, mentre si lavora regolarmente anche se piove o nebbica o, caso se frequente, soffre il vento feroce dei Carpazzi. Questo in relazione al fatto che il buio o la nebbia potrebbero dare occasioni a tentativi di fuga. Una domenica ogni due è regolare il giorno lavorativo. Nelle domeniche cosiddette festive, invece di lavorare in buna, si lavora di solito alla manutenzione del lager, in modo che giorni di effettivo riposo sono estremamente rari. Tale sarà la nostra vita. Ogni giorno, secondo il ritmo prestabilito, As Rücken e Dain Rücken uscire e rientrare, lavorare, dormire e mangiare, ammalarsi, guarire o morire. E fino a quando? Ma gli insani ridono a questa domanda. A questa domanda si riconoscono i nuovi arrivati. Ridono e non rispondono. Per loro, da mesi, da anni, il problema del futuro remoto è impallidito, ha perso ogni acutezza, di fronte ai ben più urgenti e concreti problemi del futuro prossimo. Quanto si mangerà oggi? Se nevicherà? Se ci sarà da scaricare carbone? Se fossimo ragionevoli, dovremmo rassegnarci a questa evidenza che il nostro destino è perfettamente inconoscibile, che ogni congettura è arbitraria ed esattamente priva di fondamento reale. Ma ragionevoli gli uomini sono assai raramente, quando è in gioco il loro proprio destino. Essi preferiscono in ogni caso le posizioni estreme, perciò a seconda del loro carattere. Fra di noi gli uni si sono convinti immediatamente che tutto è perduto, che qui non si può vivere e che la fine è certa e prossima. Gli altri, che per quanto dura sia la vita che ci attende, la salvezza è probabile non lontana e se avremo fede e forza rivedremo le nostre case e i nostri cari. Le due classi, dei pessimisti e degli ottimisti, non sono peraltro così ben distinte, non già perché gli agnostici siano molti, ma perché i più, senza memoria né coerenza, oscillano fra le due posizioni limite, a seconda dell'interlocutore e del momento. Eccomi dunque sul fondo. A dare un colpo di spugna al passato e al futuro si impara assai presto, se il bisogno preme. Dopo quindici giorni dall'ingresso, già ho la fame regolamentare, la fame cronica e sconosciuta agli uomini liberi, che fa sognare di notte e siede in tutte le membri dei nostri corpi. Già ho imparato a non lasciarmi derubare, e se anzi trovo in giro un cucchiaio, uno spago, un bottone di cui mi possa appropriare senza pericolo di punizione, li intasco e li considero miei, di pieno diritto. Già mi sono apparse, sull'orso dei piedi, le piaghe torpide, che non guariranno. Spingo vagoni, lavoro di pala, mi fiacco alla pioggia, tremo al vento. Già il mio stesso corpo non è più mio, ho il ventre gonfio e le mie mie bastecchite. Il viso tumido al mattino è incavato a sera. Qualcuno fra noi ha la pelle gialla, qualche altro grigia. Quando non ci vediamo per tre o quattro giorni, stentiamo a riconoscerci l'un l'altro. Avevamo deciso di ritrovarci noi italiani, ogni domenica sera, in un angolo del lager. Ma abbiamo subito smesso, perché era troppo triste contarci, e trovarci ogni volta più pochi, e più deformi, e più squallidi. Ed era così faticoso fare quei pochi passi, e poi a ritrovarsi accadeva di ricordare, e di pensare, ed era meglio non farlo.